Nella segreteria politica dell'onorevole Giuseppe Caputo, una notizia che circola ormai da tanti giorni e ora è ufficiosa, 99,9%, magari sembrano frasi fatte, ma di nuovo in campo per la città di Rossano. Ci sono le amministrative e tra pochi mesi sarà uno dei protagonisti. Con quale spirito? Ma con lo spirito di sempre, lo spirito di un combattente che ha fatto tante battaglie e che vuole essere ancora una volta al servizio della propria città, del proprio territorio, dopo aver valutato, vagliato, cercato tante strade, non escluso la ricerca del candidato della società civile che potesse un pochino riunificare il centrodestra, dopo aver cercato contatti con qualche amico, non certamente con chi ha sputato nel piatto in cui ha abbondantemente mangiato negli ultimi vant'anni, ma cercare di poter raggiungere un momento di unità. Considerato che questo non è stato possibile, ho ritenuto dare alla città un'altra possibilità di scelta. Sul palcoscenico di questa campagna elettorale ci ritorno anch'io con la coscienza a posto di aver fatto il mio dovere in tanti anni. Certo, non avrei, lo dico anche con grande chiarezza questo, ma lo dirò pubblicamente, non avrei mai voluto fare quella drammatica esperienza regionale che ha sporcato, che ha appannato la mia immagine di amministratore del fare, perché purtroppo è stato un fallimento. Siamo partiti con il presidente di allora per fare la rivoluzione nel significato più accessibile, più importante al servizio della Calabria e ci siamo purtroppo, mi sono purtroppo ritrovato nell'ultimo anno e mezzo a doverlo contestare in maniera molto evidente e mi sono pentito di non averlo fatto tre anni prima, nel momento in cui mi ero reso conto che importava alla politica regionale, al governo regionale importava solamente Reggio Calabria, l'Interland di Reggio Calabria e marginalmente anche Catanzaro, ma sempre più importante della fascia ionica o della stessa cosenza. Allora, oggi voglio essere valutato per quello che ho fatto, con tutti i miei errori che credo durante un lungo cammino ci sono, non ho mai detto e non credo, non appartiene al mio DNA dire non ho mai sbagliato, no, ho fatto una serie di errori, una serie di errori fatti in buona fede, errori di valutazione e purtroppo non ho avuto a molta fortuna con determinate persone che mi sono trovate accanto in tanti anni, aver tenuto una serpe in seno per vent'anni e oggi essermi chi ha voluto artatamente, proditoriamente scaricarmi addosso una vergognosa responsabilità, cioè io, uomo delle istituzioni da trent'anni, essere accusato di aver partecipato a far cadere il Consiglio, a far sciogliere il Consiglio Comunale di Rossano. Non so perché è stata fatta questa accusa, certo non lo meritavo perché ho sempre avuto grande rispetto delle istituzioni, Caputo non poteva essere colpevolizzato in una responsabilità che assolutamente non gli apparteneva. Quindi questo purtroppo mi ha fatto rendere conto che a un determinato soggetto, al quale ho dato tutto, ho dato onori a cui non sarebbe mai arrivato se non ci fosse stato il sottoscritto, aver fatto l'amministratore di questa nostra città per 12 anni di seguito, aver fatto il Consigliere Provinciale di Cosenza, essere stato indicato da me a fare il sindaco di questa città, certamente mi riempie di grande malinconia, di grande tristezza, di come possa essere oggi pessima la qualità di determinati uomini. Questo mi rattrista, però mi spinge. Quello che dicevo all'inizio, sono un combattente, voglio andare avanti, c'è un affollamento, io mi presento con quello che ho saputo fare, mi presento con i miei difetti, mi presento però con la mia capacità di parlare a tutti. Io sono stato sempre il sindaco di tutti, non il sindaco del centrodestra, e non credo che ci sia una sola persona in questa città di quasi 40.000 abitanti che possa dire, che magari la pensa politicamente diversamente da me, che possa dire di essere stato bistrattato o maltrattato nella mia veste di amministratore comunale. Ho sempre aperto la mia porta o le mie porte a tutti e quando ho potuto fare del bene l'ho fatto tranquillamente senza nessun problema. E allora, ecco, oggi sono qui, oggi sono qui con le mie idee, con i miei progetti, voglio vedere questa città, voglio vedere questo territorio rinascere. Benissimo il Consiglio Comunale di Corliano che ha votato la fusione insieme a Rossano in modo da poter avere una città, la terza città della Calabria, che possa competere. E proprio per questo, in un momento delicato, in un momento difficile, per questo territorio, in un momento difficile in cui andiamo a concretizzare qualcosa che abbiamo auspicato tutti. Allora, in questo momento difficile, io credo che ci sia bisogno di determinazione. Certamente non ci può essere chi si è pianto addosso per quattro anni e mezzo, non ci può essere chi non ha saputo fare niente perché si potevano fare tante e tante altre cose, non ci può essere chi non ha avuto riconoscenza e gratitudine e ha cercato solamente di mettere da parte colui che lo aveva creato e che non aveva altre ambizioni, non aveva altre cose se non dare suggerimenti che potevano nascere dalla esperienza del sottoscritto. Un panorama che si preannuncia molto frastagliato ed è più che altro sulle persone e la loro storia invece che sul portare una bandiera perché lei è stato sempre un esponente di spicco della destra, c'erano candidati di aperta estrazione di sinistra. Ora invece c'è un panorama ancora non chiaro, frastagliato, una città sofferente e al tempo stesso gli uomini che vanno avanti perché sono candidature di uomini più che di partiti. In questo contesto non le chiedo di chi ha paura perché non è il tipo, ma come vede questa situazione? Non le chiedo un singolo commento su ogni candidatura o possibile candidatura, che panorama vede? Io sono un uomo di destra, non c'è bisogno di rispecificarlo, ho portato la destra di governo in questa città. Nel 1993 essendo stato l'unico sindaco di destra eletto in Calabria nel giugno del 1993. La mia esperienza ha fatto scuola e ha incoraggiato Corigliano che nel novembre del 1993 con la stessa lista e con lo stesso supporto che allora detti all'amico Geraci vinse la battaglia nel novembre del 1993. Oggi sono orfano di partiti, questo credo che sia un dato di fatto. Nel momento in cui è stata sciolta l'Alleanza Nazionale, nel momento in cui ancora si poteva andare avanti nel popolo della libertà e poi è stato sciolto il PDL, c'è stato un momento in cui ritenevo di poter cambiare un po' il corso delle cose in Forza Italia, mi sono accorto purtroppo che in Forza Italia, a parte il fatto che ci stavo molto scomodo, perché io non sono liberale, io sono un uomo di centrodestra, ma sono fondamentalmente un uomo che viene dalla destra, che ha un suo modo di vedere le cose. Oggi non ci sono più partiti, sul palcoscenico del centrodestra ancora non è completata tutta la rappresentazione. Io ci sono, c'è Fratelli d'Italia, ci sono altri schieramenti che credo verranno nei prossimi giorni, non ho la cosa di dire, posso solamente sottolineare, ci sono anch'io, alla gente, la possibilità di dire forse aveva torto, forse aveva ragione. Io da combattente mi presento, così come ho fatto tutte le mie battaglie, forse anche rispolverando un po' la verve di vecchia, perché molto probabilmente in questi anni l'essere nelle istituzioni ha modificato un po'. Quando qualcuno mi dice perché non hai contestato Scoppelliti prima, ma perché Scoppelliti era il candidato presidente, perché da uomo delle istituzioni non potevo, e forse troppo tardi mi sono accorto, perché avrei dovuto contestarlo in maniera molto più efficace, molto più condettiva, e avrei dovuto uscire da allora, forse andando nel gruppo ministro. E' uno degli errori macroscopici che ho commesso lungo il mio tragitto abbastanza lungo, che nasce nelle istituzioni nell'ormai lontano 1975. Una battuta proprio conclusiva, questa volta in questa sua battaglia avrà al suo fianco, credo anche, gli amici veri di sempre. Attenzione agli amici però. Beh, gli amici, io ho avuto tante delusioni, lo dicevo all'inizio. Era una mia frase ironica per stemperare, insomma. Per stemperare il clima. Gli amici, mi malinconisco, ce ne sono tanti. Ce ne sono quegli amici che non hanno mai avuto niente da chiedere, e che ti hanno saputo solo dare. E molte volte, forse, ho anche dimenticato i veri amici, e molto probabilmente dovrei chiedere scusa anche a qualche amico, perché sono stato distratto. Grazie in bocca al lupo. Grazie a voi.